Oggi dedichiamo il nostro spazio, Paese delle Donne, a un argomento particolare che è la Tanzania. La situazione in Tanzania è molto conflittuale, è noto che è un paese nella quale c'è stato un cambio di presidenza per la morte del precedente presidente e che la presidente in carica è una donna ed è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha una presidenza donna. E qui con noi Anna Pite Mrio che appartiene alla diaspora tanzanese in Italia e una donna, come tante altre donne tanzanesi, porta avanti le sue battaglie politiche. Loro hanno organizzato un sit-in per il 12 febbraio a Roma a Piazza Risorgimento dalle 9 alle 13. protestano per la visita della presidente appunto della Tanzania, Samia Suluhassan, a Papa Francesco. La situazione sotto questa presidenza donna è migliorata rispetto alle politiche generali oppure è peggiorata? Diciamo la verità che la situazione con questa donna non è migliorata. Avevamo la fiducia che quando una donna entra nel potere c'è armonia, invece non ha cambiato nulla. La questione delle politiche, soprattutto politiche economiche, c'è una questione che lo sta trascinando il paese a dare il potere grande al controllo delle risorse naturali del paese alla gente che vengono da fuori paese, ai strani. Quindi secondo me non ha cambiato niente. Non ha cambiato niente neanche rispetto alle leggi che riguardano le donne? Non ha cambiato nulla perché anche per le donne ha fatto finta a mettere quello che ha messo un po' delle donne nel potere, però le questioni di pagamento è sempre diverso da quello di uomini. Quindi le motivazioni profonde sono, una l'hai appena accennata e adesso andremo a approfondirla, e cioè è da quello che ho capito l'accessione di risorse minerali, di risorse territoriali, di risorse economiche del paese a persone o a enti che siano estranei alla Tanzania. In questo caso mi sembra di aver capito che siano sostanzialmente arabi quelli a cui stanno vendendo queste risorse. Allora, e come lo dà il potere al controllo, per esempio il controllo delle porte? Tutte le porte ha dato il potere all'arabo emirizio? Il controllo dei porti? Sì, il controllo dei porti ha dato a questi DP World, si chiama DP World, che sono emirizio arabo, che possono controllare tutti i porti della Tanzania. E noi tanzanese abbiamo detto, possiamo morire per difendere i nostri porti. Invece siccome non vuole ascoltare il popolo, lei ha rifiutato completamente a cambiare i contratti che ha fatto con questi DP World. Mi sembra che una compagnia arabo che si chiama DP World ha rifiutato completamente a rimettere un altro contratto buono. Quindi voi chiedevate, io riassumo brevemente, voi chiedevate che questo presidente cambiasse o cancellasse dei precedenti contratti con gli Emirati Arabi in varia forma, insomma, con altri enti non specificatamente qui nominati. Poi, e questo non è avvenuto, poi qual è la seconda cosa che chiedevate rispetto a come mi avete accennato, le miniere, i territori? Allora, non solo che ha dato il potere a questi Emirati Arabi a controllare i porti, però ha dato pure a controllare le foreste, le foreste nostre sotto questi Emirati Arabi. Pure questo rifiutiamo. Ma in che senso controllo, scusa, cerchiamo di chiarire perché già l'argomento è difficile, bisogna capirne bene i contorni. In che modo lei ha dato le foreste agli Emirati Arabi? Veramente è questo che tutti rivolgiamo a voi per pubblicare queste cose perché diventa come neocolonialismo perché questi contratti li ha messo in segreto, non li fa a pubblicare. E' stato uscito uno solo, di D.P. World e tutti gli altri contratti, 29 contratti fatti con questi Emirati Arabi, sono in segreto, però è uscito fuori che uno di questi contratti... Guarda a saperlo, si sono contratti segreti, cioè voi non avete il testo del contratto però che siano stati firmati e lo sapete. Perché allora è stato contestato con i nostri vescovi, i vescovi cattolici, i vescovi hanno firmato una lettera che ha firmato tutti i vescovi contro questi contratti 29, perché lei da sola ha detto che ha firmato 29 contratti, però è stato uscito solo uno. Quindi i nostri vescovi insieme con noi, noi vogliamo che cancella completamente questi tipi di contratti. E' chiarissimo, io ricordo a chi ci ascolta, sempre per aggiungere chiarezza a chiarezza, che esiste, Anna Peter Maria in questo momento non è la sua rappresentante, però esiste un'associazione dei tanzanesi nella diaspora, che anche siede in America mi sembra, e che è molto diffusa. Ripeto, in questo momento Anna Peter Maria parla per se stessa e per quelle che hanno organizzato SITIN, però è naturalmente contigua questa associazione e quindi i dati che lei riporta sono da fonti certe, per quello che possono essere le fonti alla quale uno si appiglia per chiarire bene le situazioni. Quindi i porti e le foreste mi sembrano già due cose importanti. Torneremo naturalmente su questi argomenti. Scusi tanto, scusi tanto, c'è una questione pure dei posti dove si scava i minieri? Allora, sta spostando la gente da quelli posti che c'è i minieri sotto. Quindi quando scoprono che sotto c'è i minieri, sposta un villaggio intero, senza neanche pagarli bene, li sposta, gli dice, io ti do, per esempio, ti do 2 milioni tanzanian shilling, tu devi andare via da qua. Ma se quella persona va via da lì, dove va a costruire la casa con 2 milioni tanzanian shilling? Non solo questo, sta spostando tutti i mazai. Un attimo, facciamo una questione alla volta. Andiamo sulla questione miniere, in italiano purtroppo si chiama miniere. Ma lo spostamento della popolazione per, diciamo, virgolette, non in questo caso evidentemente, ma per necessità statali, è una pratica che fanno tutti i paesi del mondo. Dov'è che, diciamo, quello che voi non volete, che vi opponete, che queste miniere sono sotto contratto appunto che voi non avete controllato, che il Parlamento non ha controllato per volontà di qualcuno o perché la gente, come ovunque nel mondo e anche giustamente, si può rifiutare di spostarsi perché perde la propria terra, i propri ricordi, la propria vita, i propri cimiteri, le proprie radici. Noi piacciamo il sviluppo del paese, però se potevamo sfruttare quelli miniere, allora era meglio. Invece i miniere stanno finendo, ma non vediamo i risultati per il paese. Il paese è in ginocchio, c'è la poverità enorme e poi quelle persone che li stanno spostando dovevano pensare bene dove devono andare, essere pagati bene secondo quegli progetti così importanti, però li danno una cosa piccolissima. è come attacchiare via una persona senza sapere dove andrà a finire. È chiaro, questa purtroppo è un'esperienza molto diffusa nel mondo, specialmente nei paesi neocapitalisti o che vanno su quella strada. Allora, porti, fareste miniere. Insomma, siamo ad un altro aspetto del vostro comunicato stampa, perché voi avete fatto un comunicato stampa in occasione di questo sit-in, che ricordo avverrà a Piazza Risorgimento dalle 9 alle 13, 12 febbraio a Roma naturalmente, in occasione della visita al Papa Francesco di Samia Solusha San, che è la presidente della Tanzania. Questa è una domanda che sembra non c'entra, invece c'entra molto. La presenza dell'ISIS, noi sappiamo che è diffusa, che ovviamente ha una presenza pesante nel centro Africa e che si sta anche diffondendo. La Tanzania risente di questa conflittualità e confini al suo interno o è una cosa che riguarda di più Nicaragua e altri paesi di quell'area? Veramente, in Tanzania, noi cristiani muslimani, due religioni più grandi in Tanzania, viviamo in armonia. Non abbiamo questo radicalismo in Tanzania, veramente non esiste. Non c'è proprio. Una notizia bellissima, ecco, almeno sotto questo sito. Perché viviamo in armonia. Secondo me, in breve, è così. Non si notano queste cose, perché noi possiamo anche andare in loro moschea, loro possono entrare in chiesa, quando c'è i matrimoni. Viviamo in armonia e noi, quello che ci fa male è il governo, ma la gente è come la gente. Noi viviamo sempre in armonia. Senti, siccome tu da molti anni sei in Italia e appunto una tanzanese della diaspora e appunto un'attivista per i diritti umani e per la democrazia del tuo paese, ecco, fra un po' ci saranno le elezioni. Voi avete, c'è un partito d'opposizione, ovviamente. Questo partito d'opposizione ha presentato anche soltanto formalmente una lista di richieste, oltre queste tre che tu hai già detto, cioè rendere pubblici i contratti, ritirare quello dei porti e quello delle foreste. Sì, allora, hanno mandato le richieste. Prima di tutto il presidente aveva fatto finta di riforme politiche e invece ha fatto finta, ha chiamato questo partito grande d'opposizione per fare riconciliazione dopo Magufuli. Invece non ha ascoltato neanche una cosa che hanno chiesto loro. Allora, il rapporto è rotto. Quando parlavano, il rapporto è rotto. Tutto quello che hanno presentato, siccome è un governo dittatore che va a predicare sempre che loro fanno democrazia, invece nei fatti non lo fanno, allora quello incontro tra il partito democratico con il governo è falito. È falito. Più di questo, adesso c'è una rivoluzione grande. Questo partito sono in strada, hanno portato il popolo in strada. Quindi non solo in diaspora che noi contestiamo, adesso tutto il paese è in rivoluzione di contestare tutte le politiche economiche e i diritti umani che è stato molto violato nel mio paese. C'è una rivoluzione, tutto il paese è dentro e fuori. Io ricordo che questo partito d'opposizione mi sembra che si chiami Chadema, vero? Chadema. Allora, è un partito, scusa, è un partito, lo descrivo perché appunto io sono un riferante ma penso che moltissime persone non sappiano proprio, non entrino dentro la politica tanzanese in questo momento. Allora, per la prima volta... Ci descrivi un attimo questo partito quando si è costituito che forza ha, tanto per dare l'idea, ecco, che sia un partitino, un partitone, è recentissimo. Sono un partito molto grande e poi è loro che hanno le persone veramente capace di guidare il paese. Invece questi di Ciamapindusi, si chiama Sissiem, non sono capaci di guidare il paese, non sono stati capaci mai. Questo Ciamapindusi è stato cominciato, mi sembra, prima del 1992, perché nel 1992 è la prima volta che il governo ha accettato molti partiti, ecco, diciamo così. Quindi prima c'era soltanto un partito, poi è diventato un partito naturale? C'era monopo e partismo. Ma stavo dicendo che tipo due settimane fa questo partito ha chiamato tutto il popolo in strada per dire di no di tutte le cose che fa il governo e hanno mandato la loro richiesta iscritta a l'ONU, come si dice? L'ONU. United Nations. Sì, ma lo sai che è la prima volta che il poliziotto in Tanzania concede a dimostrare in Tanzania 60 anni di libertà dal colonialismo. Noi eravamo zitti, non si poteva parlare niente, non si poteva dimostrare, non si poteva dire di no a niente a quello governo. Però questa volta è successo che un partito democratico ha messo in contatto con i personaggi dell'ONU che noi facciamo dimostrazione, finiamo in vostro ufficio. Allora, quando hanno fatto così è stato difficile per il governo a rifiutare perché l'ONU stava aspettando il popolo lì. Beh, la stampa ha universalmente un certo ruolo. Infatti non è il caso che le dittature la prima cosa che fanno è togliere la libertà di stampa. Ecco, poi nel bene e nel male ognuno si fa le sue opinioni. Ci sono le fonti, ci sono i documenti da verificare, ci sono le voci da sentire. Le voci si sentono e meglio è. Io ricordo che lei parla anche di pochi decenni perché la Tanzania è un paese abbastanza recente. è nato nel 1964, mi sembra di aprire del 64, unendo la Repubblica di Tanzania e la Repubblica Popolare di Zanzibar. Ora, quello che sono due nomi, e possono per molte persone essere solo due nomi, sono due realtà completamente diverse. Infatti c'è anche rispetto a questa presenza araba di cui si parlava prima una presenza, diciamo, storica, tradizionale, fortissima su Zanzibar che ha fatto sempre la testa di ponte, ecco, anche ai commerci e il resto del paese. Quindi si capiscono anche alcune dinamiche oppositive che sono proprio radicate dentro la questione stessa. Un'ultima domanda e poi naturalmente ci darei un appuntamento a un secondo incontro per approfondire altre cose. Bene, bene. Il che riguarda naturalmente le donne. Rispetto alla presenza femminile in Tanzania, per quello che ne sappiamo noi, ci hanno segnalato che sono invece in atto delle scomparse delle donne. Ci sono dei rapimenti, ci sono delle... Cioè, in una conflittualità abbastanza alta, in una criminalità abbastanza alta, ci sono delle cose più specifiche che sono, per esempio, la sparizione di persone e naturalmente molte di queste sono donne. Ecco, questo, secondo i vostri pareri, quello che voi andate, siccome è scritto anche nel comunicato stampa, che voi vi opponete anche alle politiche, volete una politica di sicurezza, che però non è certo dittatoriale, è una politica di sicurezza per la popolazione. Ecco, puoi dire qualcosa su questo? Allora, scompaiono tutti, uomini e donne. Veramente, anche questa settimana sono stati scomparsi, ho sentito che sono già stati scomparsi altre persone. Veramente, i diritti umani lì sono stati violati con i poliziotti. Non sono altri che fanno questo, sono i poliziotti che violano tanto i diritti umani. I poliziotti di solito ubbidiscono l'ordine. Non abbiamo parlato dei mazai, che adesso risulta che le donne mazai soffrono tanto, perché il governo ha levato i diritti per i servizi umani lì, in Gorongoro, perché loro stanno spostando un'intera tribù dei mazai, andare a un altro posto che loro non sono abituati a vivere lì, che loro sono i pascoli, come si dice. Ma loro non vivono nel Parco Nazionale del Chilimangiaro? Loro vivono in Gorongoro. Qual è la zona protetta quella? Loro è la zona delle più famose del mondo. Loro vivono in Gorongoro, i mazai, adesso lo stanno spostando a andare a un altro posto, però con la forza e fanno finta, il governo fa finta che è volentieri. Invece non è volentieri, perché se levi i servizi basic, quello base, i servizi base della vita, è che lo stai spostando per forza. Ma quello che è male, io che difendo le donne, adesso le donne piangono perché i loro figli vivono insieme con l'animale in boschi, scappando a casa perché hanno paura che i poliziotti vengono a cacciarli, a metterli in galera. Quindi le donne stanno veramente piangendo sempre, a dirci pallate per noi. I nostri figli vivono insieme con il leone, adesso scappando la gente dei governi. Quindi è una cosa che ti fa male. È una denuncia forte quello che voi volete fare in questo, vi ricordo, questo sit-in a Piazza Risorgimento a Roma dalle 9 alle 13, 12 febbraio. Credo che i motivi ce ne siano, almeno sul piatto che mettete voi, ce ne siano parecchi. La questione politica, noi vogliamo nuova Costituzione che riguarda le leggi che è per molti partiti, invece di ancora c'è tanti partiti, quindi il Paese con quella Costituzione che è per un partito solo, con le leggi vecchie. Quindi noi chiediamo forte, forte, noi tanzanieri, la prima cosa da cambiare questo Paese, chiediamo a Samia di cambiare, di accettare che si comincia a parlare di Costituzione, si cambia le leggi, perché la Costituzione è quello che dirige il Paese verso qualche gol. Quindi come si fa a vivere senza Costituzione? Non possiamo, stiamo soffocando. E poi i diritti umani, la gente adesso vivono e come sopravvivere. La nostra gente stanno soffocando. Andate a vedere come stanno soffocando i tanzanesi. Secondo me, se fanno indagini, i tanzanesi non stanno bene psicologicamente quasi tutto il Paese. Io ringrazio moltissimo Anna Pieter Mrio di essere stata con noi.